Salve a tutti ragazzi, oggi sono con un video molto speciale perché ormai è finito l'anno e quindi vorrei riassumere in breve che cos'è stato per me il 2015 So che ho cominciato YouTube solo nel 28 luglio quindi ciò che è successo prima non l'avete mai visto quindi saranno soprattutto foto che un pochino penso vi faranno conoscere un po' meglio come ho vissuto questo anno Cosa ho fatto nel 2015? Il 2015 è cominciato nel migliore dei modi perché ho incontrato Big Hero 6 una amicizia che da quel momento non è finita mai più era come quel ragazzino, non mi ricordo mai il protagonista comunque eravamo proprio così, papà e ciccio, infatti lui mi cura A carnevale sono andato a scuola con l'accappatoio in quel giorno era spettacolare perché avevamo portato un sacco di roba da mangiare io ero con l'accappatoio, un altro amico pure, c'era chi era col pigiama ma io mi ero portato pure, mi ricordo pure lo shampoo per fare ancora la roba più seria c'era chi era in un modo, chi era in un altro, chi era vestito da donna mi ricordo ragazzi c'era un gran casino ho comprato la Playstation 4, da quel momento la mia vita sociale è finita io con quei giochi ovviamente, cioè Minecraft, sì mi piace però non ci gioco molto io da quando ho comprato Destiny e FIFA il mio mondo è finito sono andato sulla neve, sono andato sulla neve sull'Etna mi ricordo benissimo c'era Luciano e Rosario con mia cugina, la ragazza di Luciano, mia sorella è stato bellissimo, non mi posso scordare mai certe cose che abbiamo fatto, certe gare asturde ma vi giuro mi ricordo cose bellissime veramente poi ho creato un cannone, un cannone che ancora non ho usato, l'ho creato con Gianluca è stato qualcosa di strano perché ci siamo messi là insieme, abbiamo cominciato a tagliare il legno abbiamo spaccato pure un camioncino per attaccarci dentro questa canna da dove si dovrebbe sparare infatti stiamo aspettando un sacco di tempo e ora che bene o male a Capodanno si hanno anche i botti chi lo sa, forse uscirà qualcosa poi un'altra cosa che ho fatto è una partita di rugby, una partita vi giuro Italia, se mi ricordo Italia no, Italia, Italia-Irlanda del Nord, Italia-Irlanda del Nord c'erano questi che bevono, eh, tutta questa festa che non finiva mai una cosa assurda e invece noi, niente, abbiamo perso, l'Italia ha perso in una maniera incredibile però mi sono divertito davvero un sacco, perché non è come il calcio alla fine è un qualcosa che tiene pure più uniti c'è stato anche Romics, lì ho incontrato Mike Shoshua con Ambra mi ricordo benissimo quel momento che vi giuro io, come sapete io amo Mike Shoshua che è l'unico, diciamo, l'unico youtuber che veramente voglio davvero molto bene e lo stimo come persona, non che gli altri mi fanno schifo e quindi mi ricordo dopo che aspettavo un sacco di tempo lo vedo Mike Shoshua, corro e per fortuna riesco bene o male a parlarci avere, diciamo, una foto, un autografo e a chiedergli anche una foto alla sua ragazza Ambra di tutto rispetto, giustamente, se vedete questo video è una cosa assurda, però ciao poi ho comprato una Lamborghini sinceramente avevo messo un po' di soldi da parte quindi ho detto perché non comprarla, ci stava tutta quindi sì ho fatto una foto strana nella Villa Adriana cioè mi sono messo lì con dell'estate ho fatto delle foto un pochino strane però erano divertenti quindi ho detto perché no e dopo quello sono stato pure a Mirabilandia mi ricordo un'esperienza bellissima molto divertente poi ho pitturato delle magliette con Giorgio mi ricordo benissimo che un giorno me la penso e gli dico Giorgio andiamo al mercato al mercato perché? abbiamo preso queste magliette, questi colori e abbiamo cominciato a fare una sorta di Pollock per capirci poi ho incontrato Bruno Vespa Bruno Vespa l'ho incontrato nel posto più strano che mai uno può incontrare Bruno Vespa mi ricordo benissimo che dovevo partire per Londra perché sono stato anche a Londra e che cosa è successo? nell'aero ci stava Bruno Vespa e quindi ci abbiamo parlato un po' io ho fatto un selfie poi la Dogana l'ha fermato cose strane però io sono andato tranquillo lui aveva pure fretta a Londra sono stato a Londra come stavo dicendo d'estate e mi sono divertito davvero tantissimo è stato un qualcosa di mai provato perché non c'ero mai stato a Londra e quindi visitare un pochino la zona poi sono stato in un college il college è qualcosa di spettacolare e quindi mi sono divertito tantissimo e infatti faccio questo esempio ho incontrato pure Pelé la regina Miley Cyrus e tante altre statue che c'erano là ovviamente a Madame Bovary non erano vere però è stato bellissimo perché poi in il parco c'erano scogliattoli spettacolari che si avvicinavano poi erano un sacco di persone ho fatto delle amicizie spettacolari soprattutto una mia amica che davvero ci tengo tantissimo che magari qualche volta ci sentiamo anche ciao Alessandra anche lei è un canale youtube diciamo mi sono confrontato con lei prima di cominciare perché lei comunque abbiamo parlato abbiamo avuto comunque l'occasione siccome eravamo nel gruppo insieme di passare anche più momenti rispetto ad altre persone che proprio non le vedevo quindi ciao Alessandra e c'è pure tutti gli altri mi dispiace che ne saluto poi solo a lei perché c'erano davvero tante persone a cui volevo tantissimo bene appena sono tornato vi giuro era stato qualcosa di di diverso sono tornato in un modo diverso infatti era un po' cambiato però sono ritornato subito alle mie vecchie abitudini infatti sono partito subito dopo tre giorni per la Sicilia che la Sicilia è il posto che amo e infatti in quel momento mi sono portato pure Giorgio con me ho detto facciamoci una vacanza insieme e infatti siamo andati a Pozzillo che è il posto dove mi piace andare a mare è una zona bellissima perché sarebbero proprio delle sorte di piscine d'acqua con tutto intorno della lava ormai solidificata ormai sono proprio dei massi di lava in cui ogni anno il paesaggio un po' cambia perché con l'acqua del mare qualche pezzo di roccia si stacca e quindi se lo trovi sempre un po' più diverso però è comunque molto bello perché l'acqua è limpida tu ti vuoi tuffare liberamente e c'è pochissima gente quindi ti trovi davvero bello e infatti là mi ricordo proprio come se fosse ieri che mi sono messo pure a scalare Pozzillo mi ricordo sono tutte le rocce ma però dalla sopra non mi sono buttato perché ho detto addio no come spacco però e quindi mi sono divertito davvero tanto e mi ricordo anche che mentre stavo il 28 luglio in Sicilia ho aperto questo canale con Giorgia che stava pure lei con Mella e abbiamo aperto questo canale in cui abbiamo cominciato a fare qualcosa di bello insieme però da quel giorno diciamo è cambiato un po' tutto perché adesso c'è anche il canale e quindi non siamo solo diciamo io che vivo la mia vita ma c'è anche qualcosa che vi trasmetto e quindi è davvero bello e poi vi ricordo che in quel giorno sono successe anche cose molto più strane perché abbiamo preso una Nutella gigantissimi Miss Italia e l'abbiamo mangiata tutta poi sono stato in una delle spiagge più belle d'Italia almeno non so del mondo ma era un qualcosa di spettacolare e mi ricordo che Luciano mi ha fatto pure un kebab perché noi abbiamo questa tradizione pure di fare il Luciano's Kebab Luciano cucina io sono il suo aiuto a poco e facciamo dei kebab giganteschi per le persone che vengono a mangiare ma è spettacolare è finita la vacanza ed è stato un pochino scassante come cosa me ne sono proprio sfragassato a scuola per questi mesi e poi ha postato anche di nuovo un romics che avete visto anche il video molto divertente c'è poco da dire poi ho fatto davvero molte cose perché veramente passare i giorni così andando solo a scuola non mi piace davvero per niente infatti ho suonato anche Postcard con Giorgia mi ricordo qualcosa di oddio era proprio divertente si vedeva che non suonavamo neanche facciamo una sorta di parodia fra un po' poi siamo andati allo Juventus Stadium mamma mia emozioni bellissime e abbiamo registrato proprio tantissimi video in quei giorni mi ricordo proprio bene infatti abbiamo incontrato un sacco di youtuber anche al web show awards sono ritornato anche bambino in un certo momento con un ciuccio che non so davvero da dove è uscito e mi ricordo anche negli ultimi giorni che ho fatto anche una notte a sondi o energetiche ma cose troppo strane ma le cose davvero assurde sono successe in questi mesi con youtube perché pare una cosa un pochino stupida da dire lo so però comunque youtube ti dà l'opportunità di fare un sacco di cose diverse perché ad esempio le cose più strane che ho fatto sono cose che non avrei mai pensato di fare io non non ho mai pensato con dei miei amici di andare in un campo di calcio e dirgli mettiamoci i bandagli e tiriamo i palloni così a caso perché veramente uno ci pensa e dice ma perché lo devi fare non c'ha senso oppure mi ricordo che abbiamo fatto la prova a non ridere col latte perché farlo io sinceramente io non mi alzerai la mattina e dire ma andiamo a buttarci un po' di latte in faccia così e sono cose che comunque rimangono un po' strane perché tu dici wow l'ho fatto però non l'avresti fatto se non c'era youtube e quindi secondo me youtube è un'esperienza di vita perché tu hai diciamo il pretesto per fare un qualcosa di diverso e non rimanere nella tua normalità e penso che che tutti quelli che fanno youtube non farebbero queste cose se non ci fosse youtube dai vlog alle challenge ai giochi io sinceramente se non avessi youtube non mi metterei a registrare un gioco per poi rivedermelo e montarlo e tenermelo là è inutile e poi ho fatto davvero altre cose ma stranissime se non vi ricordate bene ci siamo direte pure panna in faccia perché ci prendevamo con i palloncini che si muoveva e arrivava questa panna in faccia che vi giuro una puzza allucinante mi ricordo ho puzzato di latte ma poi il latte è scaduto non so che panna era per tre giorni e nessuno mi si poteva avvicinare io ho una vergogna andare in giro per strada davvero davvero schifoso mamma mia non ci posso neanche pensare e poi ci siamo legati a delle sedie perché così prendi lo scotch e legati alle sedie mi ricordo benissimo abbia tagliato pure un pochino la sedia e quanto ci hanno fatto neri mi ricordo benissimo mamma mia perché poi dovevamo stare attenti invece abbia tagliato per sbaglio la sedia quindi poi c'è stato il traguardo dei 100 iscritti che veramente non mi aspettavo in così tanto diciamo in così poco tempo era qualcosa che io non mi immaginavo perché io youtube l'ho aperto sì ma per trovare una persona anche una solo me ne bastava che dall'altra parte diciamo piaceva il video che facevo poi ho fatto cose strane anche con i miei amici perché sinceramente fermarci perché no e abbiamo fatto anche whisper challenge e roba varie ad esempio ho litigato pure con mia sorella perché così ho detto li chiamiamo un giorno abbiamo litigato e poi la whisper challenge vi ricordo era proprio da paura qualcosa assurdo poi l'ho uscita così a caso ma roba ragazzi ora parlando seriamente invece che cosa ci sarà il prossimo anno non ve lo so dire perché è un anno le cose cambieranno tantissimo non so che cosa succederà forse succederanno cose stranissime ma assurde veramente si partirà penso a bomba io sono molto diciamo pronto per un nuovo anno perché comunque il 2016 spero sia meglio del 2015 il 2015 è stato davvero spettacolare speriamo che le cose vadano come voglio io se le cose vanno come voglio io spero che ci divertiremo insieme e non ho programmi diciamocelo molto chiaramente io non so che cosa farò la prossima settimana anche perché la prossima settimana è già 2016 quando sarà mezzanotte l'uno preparatevi subito a dire mi ricordo l'anno scorso come se fosse un minuto fa vi auguro buon anno e spero che passiate questo ultimo giorno dell'anno nel migliore dei modi perché è ciò che voglio veramente quindi ragazzi io vi saluto e spero che passiate un buon 2016 grazie a tutti commentatemi sotto nel video che cosa fate e che cosa avete fatto in questo 2015 le cose più belle vi giuro le leggerò con molto piacere ma pure cose stupide non me ne frega niente basta che abbiamo un discorso face to face quindi ragazzi io vi saluto grazie per l'attenzione e al prossimo 2016 video show fu show fu Grazie.